Scusa, te lo posso dare, che ti fanno la foto. Scusa, tieni cami. Grazie, grazie. Così li devo fare, come matri. Grazie. Scusa, sì. Ciao, arrivederci. Grazie. Oggi cucino per Elisa. Pavoletti. L'ultimo trend nel campo della cucina, dato che siamo in Liguria, c'è molto basilico. Sì. Poi la stagione piena di fragole, l'ultimo trend è fragole e basilico. Allora, anzitutto ci prendiamo due striscioline di focaccia, guarda, proprio così. Che tu mi vai a tostare un po' in padella. E ora, per tua gioia, bisogna pulire gli scampi. Dopo la bella figura delle mele prima, eh. Prendi lo scampo, poi lo metti qui e gli spezzi le ossicina centrali qua. Puoi usare anche il coltello. E poi andate a girare lo scampo. Ok. Questa è la parte dell'intestino, l'andiamo a togliere. Il mio scampo non è uscito benissimo. Strano. È una manualità incredibile, come ha fatto non uscirti bene. Da punto di vista dell'alimentazione. Sostanzialmente mangio durante la settimana molto equilibrato. Tante volte ho la voglia dell'hamburger, ho voglia della birra. Non mangi maiale, però. Questo te lo faccio fare anche a te, perché hai tua l'idea. Si prende semplicemente lo scampo e si avvolge come negli anni Ottanta con il lardo. Eh, guarda che bello. Eh sì. Eh? Sì, va bene. Direi che ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Allora, prendiamo questa focaccia, ecco così. E poi, nella stessa pentola della focaccia, mettiamo questi scampi. Un po' di mandorle, tagliate grossolanamente. Prendiamo zucchero, sale e prendiamo le mandorle. E le facciamo saltare un po' in pentola e facciamo diventare un po' caramellate e salate. Una nazionale per te è un punto d'arrivo, è un obiettivo secondo te percorribile? Poterci arrivare sarebbe uno dei sogni più grandi che uno, un ragazzo possa avere, un giocatore possa avere. So che è una competizione spietata perché, oltretutto, ogni anno escono giocatori sempre più bravi, giovani, sempre più promettenti. Un caffè? Volentieri. Metto le tazzine. Vedo il tuo servizio qua. Fantastica. Bello che sono. Et voilà. Et voilà. Tosta, ma tutto lei. Perfetto. Senti il caffè fresco, che gira, tostato. Che gira, macina. E' come avere un bar a casa, anzi una torrefazione a casa. I pinoli sono tostati. Vado a mettere un goccio di salsa di soia. Un goccio di salsa di soia. Un goccio di aceto balsamico, che le fragole del balsamico fa la morte sua. È la morte sua. Poi un goccio di olio. Ecco, l'olio è sulle fragole. Non l'avresti messo? Non l'avrei mai detto. Tatuaggi, orecchini. Allora, ho fatto un piercing una volta. Però, ho detto, se torno a casa e mi vede papà, me lo strappa. Quindi è meglio me lo levo prima io. Ha un grande ascendente tuo papà. Sì, come se. Si litiga. Siamo due caratteri molto diversi. Io sono più... Lascio stare. Lui ti martella per tutto. Però magari è stato quello che mi ha tenuto sul pezzo in tanti periodi. Due binari di focaccia. Ok. Poi andiamo a mettere le fragole al centro. Ok, vado a mettere gli scampetti. Poi un po' di queste che danno la croccantezza, che sono mandorle. Ok, poi vedi che ho tenuto delle fragoline. Sì. Bene, allora festeggiamo questo goal. Abbiamo un ottimo ribolla gialla dell'azienda ZOZETTING. Polpo di testa o polpo di tacco? Eh, polpo di testa è il mio forte, però è il polpo di tacco. Ha funzionato, dai. Qua forse si è assunto. Ufficiale. Tutti i giorni, eh? E poi appena è pronta la casa, che abbiamo anche una bella cucina, deve venire a inaugurarcela. Anche Mucchino dovrà mangiare, per esempio. Mucchino, Mucchino mangia però, non si mangia. Mangia con noi. Uh, dai, bacino, no. Dai, bacino. Dai, bacino. Dai, bacino. Dai, bacino. Veramente. Bello. Guarda questo è un bacione. Grande.